Musica Sì, l'occasione è questa celebrazione doppia, il cinquantesimo di sacerdoscia del Carnavaldini e il venticinquesimo di episcopato. Ma è un'occasione felice per gli studi giuridici. Il cardinale, prima di avere l'incarico di vicario della Santa Padre della Città di Roma, è stato un professore di diritto nella Commissione iniziale della Terenze e poi è stato prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, quindi il massimo organo giudiziario della Chiesa. Quindi è un esperto. In questa occasione è stato donato un volume di oltre 40 studi, di 40 giuristi delle università romane, statali, non statali e pontifici, in cui sono studi vari, di vario genere, sempre in materia giuridica, ma che sono legati da un filo conduttore unico, che è quello della ricerca della verità, del perseguimento della giustizia attraverso una raffinata metodologia giuridica. Grazie.